C'è una brava e grande fotografa palermitana che con la sua fotografia ha saputo raccontare la storia dolorosa della nostra Sicilia, che è la storia della mafia e delle sue stragi. Lei è Letizia Battaglia, che espone le sue opere al Maxi di Roma fino al prossimo aprile 2017. La donna che con i suoi scatti fotografici ha documentato la storia dolorosa e lancinante della nostra Sicilia. Gli anni di una guerra civile mafiosa non dichiarata, ma che colorava di sangue amaro le strade di Palermo, le trazzere polverose delle nostre campagne, le autostrade senza pace. Letizia Battaglia ha creato ritratti della memoria, memorie di uomini e di donne che hanno donato la vita e l'anima per creare sogni, per costruire orizzonti e speranze. Ritratti di donne dal cuore malmesso, crocifisso, graffiato, per figli offesi e dimenticati sottoterre oscure, ricoperte da malvagità e terribili silenzi. Frammenti fotografici che narrano di coraggio, di devozione, di amore per la libertà, ma anche racconti di uomini che con la loro arroganza, con la loro lucida follia, hanno sporcato e rubato la bellezza della nostra isola. Letizia Battaglia ha creato una fotografia silenziosa, sì, silenziosa, ma che parla la lingua vibrata di corpi pieni di pietà, di icone nude, dalla calda vita sottratta, dalla storia offesa e sfergiata. Le sue foto sono panne macchiate di sangue stesi al vento della storia, per ricordarci che la pioggia della giustizia laverà ogni dolore, ogni vessazione e soprattutto ogni dimenticanza. La fotografia di Letizia Battaglia è dono di memoria, memoria indelebile. La fotografia di Letizia Battaglia è dono di memoria, La fotografia di Letizia Battaglia è memoria. E proprio in questa terra di Sicilia c'è bisogno di memoria, affinché il futuro sia meno buio, sia meno luttuoso. Alla prossima. Grazie a tutti.